Musica Auguri di tanta luce Pasqua è la luce che vince le tenebre e noi stiamo sperimentando delle tenebre profondissime forse ce le dimentichiamo anche forse abbiamo vissuto anche con tante luci artificiali, finte pensavamo di accendere e spegnere quando volevamo noi e ci accorgiamo di tenebre terribili che spengono la vita di migliaia di persone e la vita di innocenti in tanti luoghi del mondo in particolare come non ricordare l'Ucraina la Terra Santa, la Sicia di Gaza tanta desolazione e dovremmo sempre guardare attraverso le lacrime dei bambini attraverso i piantoni più piccoli ed è lì che capiamo tutto l'orrore della violenza, della guerra l'ingiustizia, quanto è inaccettabile non possiamo abituarci alla guerra non possiamo abituarci a vivere nel buio e il buio e le tenebre sono anche nel cuore perché la guerra, la violenza, le pandemie del male spengono anche qualcosa dentro spengono la speranza c'è poca speranza c'è tanto pessimismo c'è poco futuro c'è tanto l'idea di conservare soltanto il presente minacciato dalle tenebre minacciato dalla forza del male minacciato da tante croci ecco, per questo una Pasqua di luce nella Pasqua nessuno è spettatore siamo tutti attori nella Pasqua non c'è una via di mezzo o stai con Gesù e resti con Gesù o stai con l'amore o stai con la luce o stai con con una forza che sconfigge quelle terribili del male oppure diventi complice come sappiamo l'indifferenza è complice del male per questo il male ha un enorme vantaggio perché può contare anche su quelli che non fanno niente mentre l'amore non può contare su quelli che non fanno niente e la linea tra il bene e il male quel conflitto tra il bene e il male non è soltanto nelle trincee o nei tanti luoghi di sofferenza passa nel nostro cuore ed è lì che dobbiamo seguire Gesù che affronta il male anche il nostro male il nostro peccato con una forza di amore che è capace di far risorgere è il perdono, è l'uomo nuovo ma è anche deve essere la pace fa risorgere il mondo da tanta ingiustizia da tanta cattiveria da tanta violenza ecco questa è la Pasqua Gesù apre la via del cielo fa risorgere oltre il limite della morte ma questo significa anche fa risorgere quando già c'è tanta morte dove c'è la guerra deve risorgere l'uomo l'umanità con la pace dove c'è la divisione deve risorgere la relazione con il perdono con l'incontro con il dialogo ecco scegliamo questa luce viviamo di questa luce si accende la speranza quindi tanta speranza il mio augurio è che questa Pasqua di risurrezione accende la speranza e accende anche la consapevolezza di combattere contro le terebre del male e di vincere con il Signore che le ha sconfitte per noi perché anche noi lo seguiamo nella lotta contro il male c'è tanto bisogno di pace dobbiamo essere tutti artigiani di pace il primo artigianato è sempre la preghiera non è l'ultimo lo ripeto spesso ma è così perché qualche volta pensiamo quando non abbiamo più niente da fare quando non possiamo fare qualche altra cosa ci mettiamo a pregare è esattamente il contrario è proprio la prima scelta quella della preghiera che poi ci farà fare tante cose perché poi la preghiera diventa solidarietà la preghiera diventa attenzione accoglienza vicinanza c'è bisogno di artigiani di pace anche nella solidarietà verso chi è colpito dal conflitto nell'accoglienza speriamo di poter accogliere tanti bambini che vengono dall'Ucraina orfani tutti segnati dalla violenza nelle vacanze di quest'estate ma anche nella solidarietà contro ogni violenza dobbiamo disinquinare il mondo c'è troppa violenza c'è troppa abitudine aggressiva a guardare l'altro immediatamente come ostile come quindi a doverci difendere c'è troppa e come ci insegna Gesù la violenza si combatte soltanto con la forza disarmata dell'amore scegliamo la via della pace trovando l'incontro la riconciliazione tra i fratelli imparando di nuovo la via della fraternità che si trattaake al amore la perioda